buona sera ben ritrovati una nuova puntata di angoli io vi ricordo subito la mail per comunicare con la redazione del programma angoli chiocciola espansione tv punto it mi raccomando scriveteci adesso vado a presentare gli ospiti di questa prima parte della puntata siamo in compagnia di raffaele cantacesso presidente dell'alveare onlus e di denis pesenti vice presidente della dell'associazione buonasera buonasera mi fa molto piacere avervi qua ma raccontiamo un po meglio di che cosa si occupa l'alveare che cosa fate ok la nostra associazione è attiva sul territorio da ben 35 anni ci occupiamo del tempo libero dei ragazzi disabili quindi tempo libero che può essere la domenica nonché le vacanze estive e su questa cosa delle vacanze estive diciamo che un po il fiore all'occhiello perché diamo una mano anche le famiglie e molte famiglie aspettano questa questo momento per poter diciamo rilassarsi anche loro un attimino quindi diamo un sollievo anche le famiglie certo ecco questa è il grosso modo la nostra associazione e ne siamo molto fieri di questa cosa qui perché tutte le cose che facciamo le facciamo col cuore veramente e quindi insomma siete diciamolo 35 anni siete anche molto cresciuti perché ovviamente come è facilmente immaginabile no quando si ha a che fare con dei disabili bisogna anche dotarsi di spazi e mezzi di trasporto idonei quindi avete come come è un po la sede della vostra associazione siete volgiate comasco esattamente sì la nostra sede è la stessa ormai da 35 anni ed essendo cresciuti molto come numero soprattutto in questi ultimi anni abbiamo bisogno di una sede adeguata ai nostri numeri alle nostre grandezze le nostre esigenze soprattutto e grazie al comune di olgiate che ci ha dato questo spazio totalmente da ristrutturare adesso avremo prima possibile una nuova sede dove poter ospitare i nostri ragazzi questo infatti è proprio il progetto che andrete a presentare il prossimo venerdì il progetto costruiamo un sogno felice che punta proprio a rinnovare gli ambienti dell'associazione abbiamo parlato di venerdì venerdì 4 marzo infatti presso la cooperativa l'ancora di lurate caccivio ci sarà una cena di gala certo perché mi sembra di ricordare che ci sia una premiazione sì una premiazione molto importante perché vogliamo ricordare il nostro fondatore felice albonico il quale c'è la lasciato una grande eredità che abbiamo accettato con molto piacere e portiamo avanti le diciamo il suo spirito perché lui poche parole è sempre stato l'anima della della di tutte le nostre iniziative e ci ha insegnato proprio a fare continuare a fare ecco mai fermarci tra l'altro il premio è proprio destinato a una persona che si è distinta in azioni di volontariato come è andata negli anni scorsi immagino che questa non sia la prima edizione chi è che si è distinto no questa è la prima edizione edizione perché appunto è nata questa esigenza di ricordare il nostro felice e quindi è la prima edizione in assoluto questa e noi abbiamo pensato di premiare don renzo scapolo don renzo scapolo che è stata una persona diciamo che assomigliante al felice e quindi giustamente pensavamo di premiarlo ecco per tutto quello che ha fatto e perché ci ricorda il nostro felice ecco certo quindi si ero sbagliata io è la prima edizione è la prima edizione però giustamente dopo 35 anni di attività insomma è giusto giusto peraltro proprio venerdì contestualmente alla cena di gala un po prima in realtà nello spazio del centro sportivo pineta viene inaugurata una mostra una mostra che si intitola in gioco per solidarietà una mostra di cimeli sportivi quindi punta un po anche ad avere il maggior afflusso possibile da parte dei cittadini che sono appassionati ovviamente di sport peraltro non solo di calcio e così contribuire con un'offerta a darvi una mano per ristrutturare gli spazi com'è che avete organizzato questa mostra quando è possibile visitarla allora grazie al gruppo dei bindun che è un'associazione costituita di da ex calciatori abbiamo organizzato questa manifestazione questo evento appunto verrà inaugurato venerdì sera e sarà accessibile al pubblico sabato pomeriggio e domenica per tutto il giorno saranno da in mostra cimeli di tanti calciatori più o meno recenti da evraimovic cacca ronaldo maradona si sarà esposta la champions league vinta dall'inter qualche anno fa e poi ci sarà un'asta di di beneficenza sabato pomeriggio dove tanti di questi cimeli verranno messi all'asta e dove ricavato va radonato tutta noi e insomma anche un bel gesto di solidarietà da parte di chi ha deciso di donare i cimeli infatti com'è che siete riusciti a radonarli tutti insomma diversi pezzi ecco noi no abbiamo delle persone amanti di queste cose che grazie a loro che noi riusciamo a fare questa cosa perché sono proprio loro materialmente a organizzare l'evento e grazie anche all'astro di olgiate comasco che partecipa assiduamente anche a questo a questo evento ecco praticamente l'idea è nata è nata da loro diciamo e noi l'abbiamo accettata ben volentieri ecco bene diciamo sono degli amici della nostra della nostra associazione e come tutti gli amici ci hanno sempre una grossa mano bene e quindi ricordo dal 4 marzo a domenica 6 è visitabile la mostra ma abbiamo parlato tra gli obiettivi non c'è solo quello ovviamente di rinnovare la sede portate avanti tutto l'anno gli incontri domenicali e puntate molto appunto su queste due settimane di vacanze estive in cui insomma date doppiamente piacere no ai ragazzi e anche alle loro famiglie dove andrete quest'anno andremo a cesenatico bene quando partite la seconda settimana di agosto e la terza e come funziona per chi volesse mettersi in contatto con voi magari insomma non vi conosceva visto adesso la trasmissione ha bisogno di qualche informazione in più sì bene noi ben volentieri accettiamo accettiamo nuovi arrivi diciamo chi è interessato può venire a trovarci tutti i mercoledì sera in sede a volgiate comasco che è in via pellegrini 10 e dove decidiamo appunto le vacanze e dove si farà la domenica diciamo dove dove andare la domenica trascorrere a trascorrere con i ragazzi benissimo noi mentre che parlavamo giustamente la regia ha mostrato anche il vostro sito allora lo ricordo anch'io eccolo qua associazione alviare punto it mi raccomando visitatelo perché appunto trovate anche tutti i vari riferimenti e i contatti per chi volesse ulteriori informazioni grazie mille entrambi per essere stati con noi qua questa sera grazie a voi grazie a voi come sempre adesso ci dobbiamo separare per qualche istante di pubblicità ma torniamo davvero tra pochissimo con la seconda parte di angoli quindi restate con noi